Non si fermano gli attacchi e i contrattacchi tra Russia e Ucraina. Il governo di Kiev afferma che i russi avanzano, mentre in oltre 30 villaggi nella regione di Khartiv i residenti vengono fatti evacuare. L'amministrazione di Kupiansk ha raccomandato di lasciare tutta la zona a causa della difficile situazione. Intanto almeno sei persone sono rimaste ferite portate in ospedale in seguito a un attacco russo a Biloserka nella regione meridionale di Kherson. Non c'è nessuna possibilità, non c'è nessuna possibilità. Non c'è nessuna possibilità, non c'è nessuna possibilità. Kupiansk ha rivesto un'importanza strategica sia per l'Ucraina che per la Russia, situata a 120 km da Khartiv ed è un importante nodo ferroviario.